Bentornati, adesso visto che ho fatto un video di Kung Fu bisogna fare per forza un pubblicatorio Shaolin Versa di Punta, Trailer che è un'altra perna perché praticamente che stavo qua su Stima hanno fatto un grande successo, prima gli hanno detto oh ma fai anche il secondo e mi fiora le grafiche e questo qui allora è iniziato a tornare la stessa di quello che quindi ha migliorato le grafiche guardate adesso il livello del dettaglio è proprio che sembra che stai giocando, non lo so, capito? capito, guarda, ma è meglio di tecnici solo che praticamente quando lo giro questo qua che sembra un pochettino che sia deve migliorare la tecnica del gioco che ho giocato, tutti i giochi questo qua dovrebbe migliorare le dinamiche delle tecniche per fare qualche combo fattamente qualche pugno caricato e ho fatto un video capito? come adesso il codice di prendi agli altri video ce lo vuoi prendere se vuoi prendere il codice di Tekken ce l'ho finito da un video gioco che diventa il Tekken come questi qua tutto a moddare ormai se volete ma è il momento che è un produttore che è un produttore e non lo so se sei giappone o americane ma se vuoi anche se vuoi fare un video ci sono verso tutte le video e se vuoi fare un video si può fare un video per quello che è meglio il computer è un video con la playstation non puoi cliccare a modificare si puoi modificare ma la devi modificare poi potremmo scegliere puoi prendere anche tu la pittura io sono gente che magari da casa dalla mattina alla sera perché creano due giochi anche gente che non è così forte perché c'è gente veramente forte può fare tutti i giochi belli, infatti, belli offre danni come questo qua ecco gente ecco gente grande perché rispetto ci vuole anche la notte ciao